Una piantagione di cannabis indica è stata scoperta e sequestrata ieri a Ittiri, in località Luros, dai carabinieri delle stazioni di Ittiri e Potifigari. In un appezzamento di terreno di difficile accesso, i militari, dopo varie indagini, hanno rinvenuto 123 piante di cannabis indica con un'altezza che varia dai 50 cm ai 2 metri circa e che sarebbe diventata marihuana di ottima qualità, probabilmente destinata al mercato sassarese. In seguito ai servizi di appostamento dei carabinieri è stato quindi arrestato un 45enne Ittirese, SA, che è stato bloccato nell'appezzamento di terreno mentre controllava che la piantagione fosse regolarmente irrigata. L'Ittirese è stato quindi arrestato in flagranza di reato per coltivazione di stupefacenti e trasferito nella casa circondariale di Sassari, Bancali, dove attualmente si trova recluso.